Amici sportivi da Grada Wrestling, ben ritrovati oggi con questo video dove io, Johnny Freshmaker, il commentatore della FCW, ringrazio tutti quelli per essere stati con noi. L'FCW, anche per questa seconda stagione, esplosiva seconda stagione, abbiamo visto veramente di tutto, dai grandissimi debuti, Tornafaccia, Lee Heavyweights, Mr. Flame, Don Matteo Mads Spencer, veramente di tutto amici sportivi, è stata una stagione explosive. Come si dice, dalle mie parti in the United States of America, e quindi appunto volevo ringraziare tutti i fan della FCW, fan di vecchia data, quelli che sono arrivati durante questa stagione, chi ha visualizzato il video anche senza l'iscrizione, insomma, la FCW vi ringrazia con tuo e tuo cuore, anche da parte di tutto lo staff appunto della Freshmaker Championship Wrestling, un grazie enorme amici sportivi, veramente tantissimo, tantissimi ringraziamenti per voi che avete sostenuto l'FCW, con le vostre views, con i vostri commenti, la FCW non è che è un canale con partnership, che fa soldi, noi non vogliamo sapere niente di tutto questo, noi piace fare l'intrattenimento, noi ci piace fare questi video con questi personaggi assurdi, con situazioni improponibili, non ci interessa di fare soldi, arrivare al successo, ci interessa solo fare l'intrattenimento, in questo modo qua, e io mi diverto un sacco a commentare l'incorso della Freshmaker Championship Wrestling, è stato veramente un onore per me, essere qua con queste due stagioni, io spero di essere anche per terza stagione, non so quando sarà, forse, ma probabilmente a fine anno, eh, perché vogliamo che terza stagione sia explosive, dobbiamo rifarci belli, dobbiamo fare un nuovo engine, appunto, compriremo forse un nuovo gioco, chi lo sa, e quindi dovremo rifare tutti i nostri lottatori, vediamo di aggiungere, ovviamente, il nuovo face capture, insomma, abbiamo un sacco di lavoro da fare, per rendere la terza stagione esplosiva, anche quella, ma state tranquilli che arriverà, non sappiamo quando, ma arriverà, intanto vi prometto che, comunque, tra un mese, tra due mesi, insomma, avverrà un torneo, in FCW, anche se la seconda stagione è finita, ma per ringraziarvi tutti, di questo sostegno, ci sarà l'FCW King of the Ring, un torneo per decretare il re della FCW, extra, alla seconda stagione, proprio un extra, immaginate una cosa proprio extra, a tutto quello che è successo, vedremo chi sarà il re della FCW, giusto per tenervi con le spine prima della terza stagione, amici sportivi da Johnny Freshmaker, è veramente tutto, vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche Tiger Black, per essere stato con me, al commento di Don Matteo con Don Bud Spencer, ringrazio tutti i vostri commenti positivi, ringrazio anche Leo the Wolf, che fa tutti i suoi pronostici, FCW, ci fa sempre tenere, insomma, si vede che ci tiene, alla FCW, si diverte, l'importante è divertirsi, l'importante è poter vedere questi personaggi assurdi, che interagiscono, fanno cose strane, insomma, alla fine, il trash, ahimè, a me non piace, a me non piace, io lo dico onestamente, a me il trash non piace, però il mio compito è quello del commentatore, io non sono quello che fa contratti con la FCW, non sono quello che decide chi far venire nella federazione, ok? Io sono solo quello che commenta, e appunto, se io commento, io dico quello che voglio, l'ho sempre detto, io che commento, dico quello che voglio, senza peli sulla lingua, ecco, Mi raccomando, amici sportivi, sintonizzatevi sulla terza stagione, che ovviamente, ve lo diremo quando arriverà, anche sulla pagina Facebook, della FCW, e niente, spero che vi siate divertiti, spero che questa second season, vi sia piaciuta un sacco, noi ci siamo divertiti, abbiamo visto cose assurde, tipo Peppe Fergici, che a me non piace, insomma, tutte queste cose qua, ma comunque, appunto, come ho già detto più volte, il vero intento della FCW è il divertimento, quindi spero vi siate divertiti, un saluto, un grande ringraziamento da vostro Johnny Freshmaker, che sono io, commentatore della FCW, e da tutta la staff della Freshmaker Championship Wrestling, vi ringrazio amici sportivi, alla prossima!